Il gruppo consigliare del PD traccia un bilancio dei primi sei mesi della giunta a Marsiglio e nel corso di una conferenza stampa ha illustrato i motivi di un giudizio negativo. Silvio Paolucci, Dino Pepe e il segretario regionale Michele Fina parlano di divisioni all'interno del centro-destra che non hanno prodotto nessun risultato concreto, dalla sanità ai trasporti, dalla caccia all'agricoltura e dal lavoro alla questione dei trabocchi. Dalla giunta lenta alla giunta ferma, sei mesi di stallo sulle nomine, sulle poltrone, di divisioni interne e sostanzialmente zero atti di programmazione, zero leggi per quanto riguarda la nostra regione, tutti i settori inchiodati in tutte le questioni più importanti della nostra regione. In sanità hanno adoperato ben sei mesi per nominare i manager e inoltre hanno dovuto aumentare di ben 40.000 euro lo stipendio base per poterli nominare. Non vi è un atto di programmazione approvato, nulla si sa dei nuovi ospedali. Per quanto riguarda i trasporti abbiamo a rischio l'affidamento tua, 3 milioni di chilometri di tagli e privatizzazioni, a rischio cerella, mezzi fermi, pullman stracarichi, studenti a piedi. Per quanto riguarda la caccia, la caccia è chiusa soltanto dalla nostra regione per ben due volte, il TAR ha bocciato il calendario venatorio. I bandi fermi per le piccole e medie imprese e per quanto riguarda l'agricoltura. Innumerevoli vertenze sul lavoro, è tutto fermo. Non c'è una visione circa la politica della trasversalità, del turismo, delle infrastrutture, della ZES e della portualità. In tutto questo l'unica luce sono le risorse che il bilancio ha anticipato per quanto riguarda il masterplan, anche in questo caso stanziamenti della precedente legislatura e del precedente governo di centro-sinistra. Ma quelle risorse del bilancio vengono dal lavoro che abbiamo portato avanti nella scorsa legislatura. Quando arrivamo noi nel 2014 abbiamo dovuto anticipare 140 milioni di euro perché non vi erano le risorse in cassa. Abbiamo lasciato invece a febbraio del 2019 ben 480 milioni di euro di cassa che hanno utilizzato, ben facendo su questo caso, in anticipazione per quanto riguarda le risorse degli investimenti del masterplan ai comuni, alle province e per quanto riguarda le nostre strade. Questo purtroppo è il bilancio di un'aggiunta ferma, sei mesi a discutere sulle poltrone.